Buongiorno, vi parlo da Leima per il prodotto TAFE, siamo nello stand 35 e oggi vi illustrerò quelli che sono i prodotti e le novità presentate in questa edizione 2024. Abbiamo il più piccolo della gamma, un 20 cavalli con trasmissione meccanica, abbiamo poi la versione 28 cavalli con la trasmissione idostatica e con differenti PTO per poter soddisfare le esigenze anche per l'uso delle municipalità. Qui abbiamo il nostro best seller che è la versione da 28 cavalli meccanica, qui con il phone loader e con la cammina. Qui abbiamo l'elettrico da 28 cavalli e nella sua versione definitiva che sarà in produzione nel 2025. Il nostro trattore da 75 cavalli che è stato selezionato tra i finalisti del Tractor The Year con la nostra nuova cabina ed equipaggiato con un phone loader che è tipico di questo tipo di di macchine. La cabina è una cabina molto confortevole in termini di rumore, in termini di silenziosità. Qui abbiamo un'importante novità che sarà presentata un'altro anno ad Hannover che è la nuova gamma 45-65 cavalli compatta con differenti tipi di trasmissione, sia la trasmissione meccanica, la trasmissione idostatica. La trasmissione meccanica sarà completamente sincronizzata, questo modello sarà equipaggiato con il motore Deutz Stage 5 da 2,2 litri, che è uno dei best sell in termini di consumo e di prestazione. Per finire abbiamo il 75 cavalli Open Station che è già disponibile da inizio del 2024 e che qui ripresentiamo con alcune novità per quanto riguarda gli allestimenti. Per finire, come innovazione, come abbiamo visto dall'altra parte abbiamo l'elettrico e tutto il mondo dell'elettrificazione, qui abbiamo Terra, il sistema Terra che è composto da tre grandi parti, una è Horizon che è tutta la parte di FMIS, abbiamo poi Latitude che è tutta la parte di autosteering che possiamo qui vedere e poi abbiamo la parte grid che è la connettività e l'isobus messa insieme. Quindi con questo sistema scalabile possiamo soddisfare tutte le esigenze per quanto riguarda l'agricoltura moderna e digitalizzata. Il sistema ha la possibilità di essere usato su qualsiasi tipo di macchina TAFE, quindi qui lo vediamo nella versione con la cabina, cabina con il video, ma poi anche l'altra macchina da 28 cavalli o da 20 cavalli può usare questo sistema. Per finire è importante ricordare che sono i 65 anni dell'azienda TAFE e quindi venite a trovarci nello stand 35 dell'EMA 2024. Grazie. 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 Grazie.